Dal Vangelo secondo Luca. E siamo in un contesto, siamo verso la fine del Vangelo di Luca, Gesù consegna alla comunità dei suoi discefoli alcune raccomandazioni importanti e tra cui fa riferimento al cuore. È un contesto in cui Gesù parla dell'avvenuta del figlio dell'uomo e dice, usa alcune immagini anche un po' forti, sembra quasi che metta un po' di preoccupazione, un po' di ansia, ma in realtà è una dimensione di speranza quella che Gesù consegna ai suoi discefoli. Dice, all'uomo diciamo in vita esorta a fare attenzione al cuore. A cosa è attaccato il cuore? Perché tutte le vicende della nostra vita forse proprio parte da questo punto fondamentale, il cuore, che nella Bibbia il cuore non è la sede dei sentimenti e delle emozioni, ma il cuore è il luogo dove prendiamo le scelte importanti della nostra vita o per la nostra vita. Il luogo della scelta, delle scelte, delle decisioni è il luogo dove l'uomo compie un discernimento importante per la vita, per la sua vita. E quindi Cristo invita i suoi discepoli a fare attenzione a questo cuore, al nostro cuore a cosa è attaccato, cosa è importante profondamente nella nostra vita, fare attenzione a questo. Poi invita a vegliare, ad attendere, a sapere attendere e attendere, dice, una dimensione importante anche della preghiera. Attendere pregando, cioè attendere, come dire, la preghiera è una relazione con Dio, non è semplicemente necessariamente un insieme di cose che diciamo, ma principalmente la preghiera è una relazione con Dio. Sembra quasi che dica Cristo, stando attenti al vostro cuore, rimanete in tutto questo attaccati al Signore. Rimanete in questa relazione. Il verbo rimanere anche nella Bibbia è molto importante. Nel Vangelo di Giovanni il verbo rimanere è proprio il discepolo che rimane nell'amore del Signore. Gesù dice ai Suoi discepoli, per esempio, rimanete nel mio amore, se rimanete in questo amore, rimanete nell'amore e sarete liberi veramente. Quindi penso sia un'esortazione, in realtà, lontano da essere una questione di preoccupazione o di ansia. è un'esortazione piena di speranza che ci consegna il cuore, la dimensione del cuore, la dimensione della preghiera, ma soprattutto di rimanere in questa relazione con Cristo sempre e comunque.